Ciao a tutte! Allora oggi prepariamo finalmente le Kinder Brioche, quelle che vi ho fatto vedere ieri. Vi faccio una carrellata degli ingredienti. Serviranno principalmente due farine, io uso quelle di ceci e quella integrale, del lievito vanigliato, yogurt greco 5% o anche 0, albume, crema di mandorle e della marmellata, io uso quella di albicocche. Bene, iniziamo subito. Mettiamo 25 g di farina di ceci e 25 g di farina integrale. 120 ml di albume. 30 g di yogurt. E mescoliamo. Aggiungiamo anche 4 g di lievito vanigliato. E mescoliamo togliendo tutti i grumi. Versiamo in un pentolino da 14 cm di diametro e facciamo cuocere 10 minuti per lato a fiamma bassa con coperchio. Eccolo qua, cotto, ho avuto un incidente di percorso, non importa. Fate raffreddare 2-3 minuti. Lo tagliamo in orizzontale, in questo modo, così da ricavare 2 dischi. Dopodiché lo tagliamo a rettangoli. E via così. Rettangoli di questo tipo e misura. Ecco qua, ve ne faccio vedere una. Prendiamo la marmellata e farciamo. Adesso decoriamo. Per decorare uso l'amandino. Prendiamo quella più densa, perché la superficie è liquida. Ci muniamo di uno stuzzicadenti. E con calma decoriamo la nostra merendina. Ve ne faccio vedere una. Ecco qua. E conseguiamo così. Un bacio, alla prossima ricetta. Ciao! Ciao. Grazie a tutti.